Ben ritrovati e ancora buon anno cari amici rossoneri, un saluto a chi ha il Milan nel cuore, un saluto a tutti, un augurio rinnovato per un bel 2021 in campo e fuori, per il Milan e per la vita di tutti, per voi e per i vostri cari. E dunque ripartiamo, siamo ripartiti già alla grande, questa mattina le pagelle di Simone per Milanello Baby, abbiamo proseguito con due retroscena, uno su Donnarumma e uno su Jovic, quello su Donnarumma che ha fatto arrabbiare qualcuno, quello su Jovic che è sempre attenzionato dal Milan, ma non è l'unico nome, il Milan per il mercato di gennaio che inizierà dunque, visto che ormai siamo a gennaio, si dice sempre il mercato di gennaio, chissà quando arriva ma siamo arrivati, inizia ufficialmente lunedì 4. Vuole prendere un difensore, un centrocampista e se c'è l'opportunità ha anche un attaccante, ha diverse carte sul banco, ha diversi fascicoli, diversi dossier aperti sulla scrivania, tra Maldini, Massara e Moncada ovviamente la squadra mercato e uno sicuramente Jovic, Jovic come abbiamo detto può arrivare solo in prestito, il Milan Jovic non lo può e non lo vuole comprare a titolo definitivo perché ha un ingaggio importante, ma soprattutto perché il cartellino è altissimo essendo stato pagato un anno e mezzo fa circa 60 milioni di euro, quindi a bilancio ancora per troppi soldi, se arriva può arrivare con la formula alla Brian Diaz, prestito magari di 6 mesi e poi si discute e se ne riparla. Questo è il discorso Jovic che non è tramontato e finché il mercato è aperto, finché non succede qualcosa di diverso è una pista che rimane percorribile anche se il Real come vi abbiamo detto non è così favorevole alla parola del Milan perché ritiene che il Milan non giocherebbe e non verrebbe valorizzato. Ma abbiamo un altro nome importante e abbiamo nel frattempo analizzando l'orizzonte del mercato, le vie infinite del mercato abbiamo colto qualche segnale che secondo me vale la pena analizzare sul nome che avete visto in copertina di Scamacca. Allora adesso andiamo a vedere un po' tutto, la cosa certa al 100% è che al Milan Scamacca piace e piace anche tanto, a noi di Milan Nel lo piace ancora prima perché lo consigliavamo quando giocava all'Ascoli, qualcuno di voi ce l'aveva consigliato ancora prima, Mr. Pogliani, l'avvocato del diavolo Emiliano Netti ne caldeggia non l'acquisto ormai da diverso tempo. Il Milan lo ha chiesto al Sassuolo, punto di domanda, sì, punto esclamativo, assolutamente sì, lo ha chiesto una decina di giorni fa, 11-12 giorni fa, il Sassuolo però ha detto no se no per cifre importanti, valutando il giocatore 25 milioni di euro, e non sono sicuramente pochi, per un attaccante che lascia intravedere cose importanti ma che è la prima stagione in serie, adesso vediamo un po' i numeri. Un'altra cosa certa è che il Milan ne ha parlato anche con la dirigenza del Genoa chiedendo informazioni sul profilo di giocatore, o meglio sul profilo del ragazzo, del professionista per capire se è un giocatore su cui puntare o se ogni tanto qualche bizza la fa. Ricordiamo che contro il Milan Scamacca parte dalla panchina, poi subentra, fa quella mezza sforbiciata con il Miracolo, una delle più belle parate stagionali di Donnarumma, che comunque salva il risultato. Vi do qualche numero e poi vi do gli indizi ulteriori su Scamacca, intanto è un... ah, oggi è il suo compleanno ragazzi, lo scopro adesso, primo gennaio 99, quindi lui oggi fa 22 anni. Sarà magari una coincidenza del destino che ne parliamo oggi, giuro che l'ho scoperto adesso, 22 anni oggi, quindi tanti auguri a Gianluca Scamacca, magari il prossimo compleanno, lo dicevo anche per Auge prima che arrivasse, il prossimo compleanno faremo gli auguri da tifosi di Scamacca in quanto giocatore del Milan. Per Auge abbiamo detto lo stesso e poi si è verificato. Come sapete, o forse non lo sapete, lui gioca al Genoa ma in prestito dal Sassuolo, tant'è che il Milan ne ha chiesto il prezzo al Sassuolo e ha chiesto informazioni sul profilo del giocatore al Genoa. Gioca anche nell'Under 21, 1,95 oppure 85 kg, quindi fisico importante, peso, centimetri, gioco aereo e un profilo sicuramente rispetto a quelli citati un po' più simile a quello di Zlatan Ibrahimovic, che è il nostro Ariete là davanti. Poi vi do anche il terzo nome, anche se ne abbiamo già parlato per quanto riguarda l'attacco. Lui cresce nel Giovanini della Lazio fino al 2012, passa alla Roma per tre anni, poi va al PSV due anni, fino al 2017 molto giovane, a proda al Sassuolo. Al Sassuolo fa tre presenze, poi è un po' un vagabondo girovaga tra Peck, Zwolle, torna al Sassuolo, va all'Ascoli l'anno scorso in Serie B, fa nove gol in 33 partite e quest'anno appunto al Genoa, dove in stagione, ve lo dico subito, ha fatto in Serie A 11 partite, due gol e un assist, ha partecipato al 15% dei gol del suo club e ha giocato però non tantissimo, il 45% dei minuti disponibili, quindi meno della metà delle partite complessivamente. Andando nel dettaglio, poi vi do gli indizi, lui ha fatto 654 minuti, ha fatto quattro gol in due partite di Coppa Italia. Ricordo un po' quel Piontek che aveva fatto tanti gol anche in Coppa Italia, poi aveva segnato tantissimo. Comunque 6 gol stagionale, un assist, è entrato nel giro dell'Under 21 dove ha fatto 7 gol in 12 partite, quindi un bottino molto positivo. Ha fatto tutta l'altra fila, Under 15, 16, 17, 18, 19, 20 e adesso Under 21. Vediamo se potrà crescere, di fatto però non è un titolarissimo del Genoa, forse si aspettava di trovare un po' più spazio. Il suo procuratore che ha parlato recentemente, neanche un mesetto fa, Paolo Paloni, scusate, ha detto che il progetto del Genoa l'ha convinto, hanno creduto in lui e sono arrivate tante manifestazioni di interesse per lui negli ultimi mesi. Ma il Sassuolo sa di avere un calciatore importante nella propria scuderia, quindi sa benissimo anche lui che il Sassuolo per farlo spostare lo vuole far pagare anche bene. Dicevamo del rendimento importante, da titolare ne ha fatte 7 in campionato, è entrato 4 volte, una volta è rimasto in panchina, quindi non titolarissimo e tutto sommato forse per il Genoa potrebbe anche partire. Dall'altra parte va detto che il Sassuolo ha fatto operazioni anche diverse in passato, ricordiamo Sensi, prestito oneroso con alla fine un diritto che era obbligo mascherato di riscatto ed è stato riscattato. Il Milano adesso non vuole tirare fuori 25 milioni di euro, però si può ragionare su una formula alla Tonali, magari non 25, 20 più bonus pagandone 5 adesso e gli altri 15 tra un anno o piuttosto che un anno e mezzo dilazionati come è successo, come succederà perché il Milano ha pagato ancora poco Tonali per il Brescia. Questa può essere la formula vincente per Scamacca, che piace però a tanti club, si è interessata anche la Fiorentina, è chiaro che però il Milano ha un appeal diverso, tra l'altro lui, e adesso vi do l'indizio ve lo promesso, lui si ispira a Ibrahimovic, ha detto richiamo a Ibra nel mio nickname su Instagram perché è il mio idolo, lui col profilo in realtà nasce da un problema, mi ero scordato la password e ho dovuto rifarlo nuovo, comunque ha messo nel nickname Ibra e da Ibra potrebbe imparare, potrebbe rubare i segreti del mestiere, potrebbe crescere ulteriormente ed è un profilo perfetto per Elliot, cioè il giovane, il giovane ingaggio basso, 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 cartellino non eccessivo ma 25 il Milano adesso non li spende, si ragiona eventualmente sulle formule e un futuro quasi garantito perché ripetiamo ha dei parametri molto molto importanti, 22 anni oggi quindi è ancora molto giovane, è vero che ha la prima esperienza in Serie A però ha lasciato intravedere doti fisiche soprattutto e tecniche molto molto importanti, Gianluca Scamacca ha 22 anni oggi, nato a Roma e un prestito appunto al Genoa fino a giugno, ora è successo qualcosa di strano nel frattempo perché il Genoa qualche giorno fa si era interessato all'Amers, giocatore dell'Atalanta che era stato accostato in parte anche al Milan alcuni rumors non verificati del Milan di mercato e questo era un po' strano perché comunque sì loro hanno destro però Scamacca dovrebbe essere la punta di diamante ma non gioca tantissimo, perché andare a prendere allora un altro attaccante? Adesso hanno provato a prendere Piontek, nostro ex e loro ex giocatore, addirittura qualcuno parlava di visite mediche in programma oggi che sembrano però essere saltate per i dettagli economici, i parametri ritenuti troppo alti, in ogni caso il Genoa sta cercando e vuole prendere a tutti i costi senza spendere troppo una punta e questo è un segnale, un segnale secondo me importante perché potrebbe liberare Scamacca in uscita il Genoa secondo me ha delle lacune in diversi reparti, non nell'attacco e il fatto che vada a prendere un attaccante è singolare e forse è preparatorio all'uscita di un giocatore, destro non ha il mercato di Scamacca quindi attenzione perché è un segnale che a posteriore potremmo leggere come poi significativo noi lo diamo oggi ragionando insieme a voi a voce alta come qualcosa di curioso quantomeno converrete con me che è curioso il fatto che vada a prendere un altro attaccante che l'abbiano cercato e che non venga casualmente come occasione perché hanno seguito diversi profili e questo potrebbe liberare Scamacca per altri club se però si trova l'incastro giusto dal punto di vista economico lo ribadisco, il Milan ha preso informazioni, questo è certo con il Sassuolo, ha parlato anche col Genoa ha parlato con il procuratore del giocatore che al Milan ci verrebbe di corsa pur consapevole che non giocherebbe da titolare ma che avrebbe il suo spazio si giocherebbe magari qualche traguardo importante verso maggio, incrociamo le dita e giocherebbe con il suo idrozzata di Ibrahimovic dal quale potrebbe attingere molto potrebbe imparare, potrebbe rubare i segreti del mestiere prendendone magari il posto in futuro questo è lo schema, sicuramente il Milan dei giovani su Scamacca ci vuole puntare e è un profilo che può essere anche futuribile Jovic se arriva, ripeto, è prestito per sei mesi Scamacca se arriva, arriva per costruire anche il futuro del Milan insieme un altro profilo che piace molto è Eduard del Celtic ne abbiamo parlato, a me piace tantissimo, al Milan anche però a gennaio è molto, molto, molto difficile che si sposti come graduatoria quelli che piacciono di più sono Scamacca e Eduard in seconda posizione, o terza meglio, c'è Jovic come possibilità che arrivi, nel senso che sia più facile, come facilità c'è Jovic perché è prestito in seconda posizione Scamacca, in terza c'è Eduard del Celtic questo a oggi, con la premessa che il mercato è un continuo divenire quello che oggi è bianco, domani diventa grigio, poi torna bianco, poi diventa nero ma mi sembrava giusto aggiornarvi su un interesse del Milan che rimane sempre concreto per Scamacca 25 milioni però oggi sono troppi, oggi sono 25, chissà, magari tra un paio di settimane potrebbero cambiare o si potrebbe trovare una formula alla Sensi, prestito oneroso con riscatto dilazionato poi negli anni che ne pensate, vi piace il profilo di Scamacca? A me piace molto così come quello di Eduard del Celtic, un po' meno mi piace Jovic però vediamo che cosa succede, il Milan se c'è l'incastro giusto, se c'è l'opportunità prende anche una punta vi mando un abbraccio, andate a rivedere il video di oggi se vi va lasciate il like ragazzi, like, 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 like qui sotto e iscrivetevi qui sulla banderina rossonera se lo avete ancora fatto per non perdere nulla ma proprio nulla sul mondo del Milan noi ci siamo tutti i giorni, più volte al giorno dove lo trovate un canale così? Da nessuna parte Forza Milan e buon anno ancora, ciao!